eccoci ragazzi buongiorno nuovo video di aggiornamento tech un nuovo video di aggiornamento sul mondo apple parleremo della beta 3 che è stata rilasciata proprio ieri sera di iOS 18 niente di esaltante qualche piccola novità stanno continuando i test e miglioramenti soprattutto a livello visivo e di design per quanto riguarda interfaccia sfondi icone e chi più ne metta quindi mettetevi comodi ne parleremo parleremo anche del nuovo aggiornamento che sta per arrivare il 17.5.2 e soprattutto come sempre vi ricordo per supportare il canale e per farlo crescere un bel mi piace un commento qui sotto per farmi sapere la vostra a riguardo poi vi ricordo in descrizione troverete lo sponsor del video che ne va ogni acquisto che farete sul sito tramite il link in descrizione supporterete il mio canale c'è anche il cashback e troverete tantissimi sconti dai videogiochi nuovi ai videogiochi del passato a gift card abbonamenti contenuti e gift card netflix amazon itunes e chi più ne più ne mette poi vi ricordo il mio canale ideale per non perdere il video del giorno e soprattutto tantissime offerte di amazon per risparmiare tantissimi soldi se non trovate nulla di vostro piacimento vi basterà cliccare sul link affiliato di un'offerta vi si apre amazon aggiungete un altro prodotto nel carello dopo quello avete cercato e anche in questo modo mi arriverà un supporto da parte di amazon grazie veramente per tutto partiamo innanzitutto con una chicca prima di entrare nella beta 3 di ios 18 perché vi ho detto parliamo di una chicca perché praticamente un liker anonimo su x che a quanto pare sembrerebbe essere molto affidabile e si è visto anche nel passato sembrerebbe che abbia confermato l'arrivo ormai per questo mese di luglio del versione 17.5.2 come aggiornamento del nuovo sistema operativo appunto versione ios 17 non vi aspettate niente di eclatante saranno sicuramente bug fix e correzioni o implementazioni alla sicurezza poi avremo l'aggiornamento alla 17.6 che come avete visto settimana scorsa è arrivato anche come aggiornamento come test per gli stessi beta tester perché poi ovviamente a settembre arriverà la ciccia con ios 18 anche se come sappiamo purtroppo l'Europa sarà molto castrata per via della mancanza dell'apple intelligence altre funzioni come l'iphone mirroring trovate tutto sul mio canale youtube a proposito di canale youtube vi lascio in alto a destra il video precedente cioè tutti i contenuti della beta 2 di ios 18 così man mano li potete andare a recuperare e vedete cosa è successo da una versione all'altra partiamo innanzitutto appunto da questi aspetti parliamo di ios 18 beta 3 che è stata rilasciata ieri sera e appunto ha introdotto qualche novità mettetevi comodi niente di esaltante però essendo aggiornamenti interessanti sul nuovo sistema operativo comunque mi incuriosisce portarli io parlerei innanzitutto e mentre vi parlo vi faccio vedere anche qualche immagine appunto che è stata estratta delle novità che sono state implementate partirei innanzitutto con e come state vedendo già le icone della modalità scura che sembrerebbe che in ogni aggiornamento stiano puntando sempre di più al miglioramento come avete visto anche nelle immagini sembrerebbe che abbiano anche cambiato leggermente l'icona delle mappe ma soprattutto stanno spingendo molto a mio avviso sulla dark mode stanno in ogni aggiornamento migliorando soprattutto la resa dello sfondo con le icone le icone abbiamo già visto che con la precedente beta si possono appunto andare a cambiare di colore si attiva la dark mode che si abbina correttamente allo sfondo ma la cosa che hanno implementato soprattutto in questa nuova versione di beta 3 come state vedendo è che hanno anche migliorato la gestione dei wallpaper che a quanto pare sembrerebbero essere capacitivi in che senso sembrerebbe che in determinati orari del giorno vadano a cambiare e ad essere implementati quindi questa cosa sembrerebbe essere molto interessante a proposito vi do subito una chicca e poi entriamo nel vivo del video con altri approfondimenti sull'aggiornamento sembrerebbe che dentro a questo aggiornamento e quindi in questa beta 3 ci siano dei chiari riferimenti all'apple intelligence si parla di i gemmoji di cui abbiamo parlato l'image playground writing tool l'image wand e altro ancora che cosa significa sembrerebbe quindi che probabilmente nella prossima versione quindi o nella 4 o subito dopo avremo finalmente la possibilità di vedere come funzionerà l'apple intelligence e vi ricordo purtroppo castrato in Europa per delle limitazioni di cui abbiamo già parlato nei precedenti video però comunque arriverà a gamba tesa negli stati uniti in tanti altri paesi comunque ne vedremo di più e ne sapremo sicuramente di più mentre appunto vi passano sempre queste immagini delle nudità sicuramente più interessanti allora vi ho detto innanzitutto i wallpaper che cambiano in base all'orario del giorno hanno nuovamente sistemato e a mio avviso ancora di più migliorato il colore di sfondo che rende ancora meglio per quanto riguarda la dark mode e poi hanno introdotto icone di terze parti come facebook telegram slash notion youtube e tanto altro ancora e inoltre hanno dichiarato che apple sembrerebbe aggiungere automaticamente le icone della modalità scura una volta che appunto le icone hanno pochi colori quindi la cosa sembrerebbe essere molto interessante altre novità sicuramente da segnalare sono partiamo innanzitutto con e state vedendo la torcia perché è stata ancora di più implementata all'interno della dynamic island infatti c'è un'interfaccia più grande che permette di migliorare che molta più facilità la luminosità e la diffusione del flash led per utilizzare la funzione appunto torcia altre due novità interessanti da dover sottolineare innanzitutto nell'applicazione foto hanno migliorato l'indicazione ma soprattutto l'implementazione del tasto seleziona quindi non dovremo più fare tutto lo scorrimento per andare appunto andare da selezionare si può fare direttamente con il tasto seleziona altra cosa che comunque hanno inserito e a mio avviso è molto carina e avete visto anche dalle immagini che le emoji l'immoji e gli adesivi sono stati finalmente tutti quanti implementati incorporati all'interno dell'applicazione messaggi a mio avviso la cosa è molto comoda perché avendo tutti quanti nella stessa interfaccia è molto più semplice per andarle ad utilizzare e quindi per andarle soprattutto a scorrere con molta più semplicità altra cosa comunque da segnalare che nell'interfaccia rcs dei messaggi l'interfaccia è cambiata quindi piuttosto che apparire come un interettore on off ora adesso è una funzione tap in che quindi permette una funzionalità e quindi un contesto aggiuntivo inoltre vi ricordo che questa funzione in molti paesi non ci sarà poi man mano vedremo come sarà la roadmap soprattutto per quanto riguarda questo interruttore rcs perché al momento è presente negli stati uniti ma dovremo vedere poi come sarà introdotto per tutti gli altri altra cosa interessante sotto la tastiera emoji da us 18 beta 3 si può quindi accedere direttamente ad adesivi ed emoji oltre al fatto dell'interfaccia inoltre l'app messaggi non mostra più il nome del contatto per le modifiche silenziate quindi indica soltanto la voce messaggi quindi la cosa a mio avviso è molto interessante soprattutto per non far vedere e per non arrivare la notifica in tempo reale inoltre nell'app foto e nella sezione delle visualizzazioni delle foto è stato rintrodotto il pinch to zoom che era che prima era stato diciamo così cambiato in termini di funzionalità adesso finalmente è tornata a funzionare come era su ios 17 queste sinceramente a mio avviso sono le cose più interessanti da segnalare per quanto riguarda la beta 3 di ios 18 fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se avete trovato qualcosa di nuovo o che non è stato segnalato così me lo scrivete ci scambiamo le informazioni vi auguro una buona giornata un bel mi piace per supportare il video noi ci vediamo domani per un nuovo contenuto